Sebbene Bruxelles abbia approvato la manovra finanziaria italiana, certo non espansiva, ha anche chiesto al nostro Paese di ridurre il debito eccessivo. Con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, i vincoli di bilancio saranno meno stringenti? Ma c'è ancora molta fiducia nell'Italia e anche le espressioni che sono arrivate rispetto a questa manovra lo dimostrano. Abbiamo bisogno di una maggioranza di governo in Italia che si concentri sull'azione di governo e sfrutti questo tempo di due anni, due anni e mezzo per quelle riforme di cui il Paese ha bisogno. Per cui c'è bisogno davvero in questo momento di forte energia da parte della maggioranza di governo italiana. La manovra è stata giudicata in linea con le aspettative. Naturalmente una manovra che deve ripianare 23 miliardi non ha grandi margini. Ma naturalmente è stato un segnale molto importante rispettare i patti e gli impegni che sono stati assunti anche da governi precedenti. È un fatto di serietà e questo credo che la Commissione europea l'abbia apprezzato. Abbiamo bisogno in questo momento di un'Europa che cresca e c'è un tema perché anche i Paesi che pensano di crescere di più in realtà hanno bisogno di crescere ancora di più e soltanto l'Europa e le politiche europee possono consentire questo. Ecco perché c'è fiducia nella partenza della nuova Commissione. La Presidente von der Leyen ha illustrato progetti e programmi che vengono dal Parlamento e che possono davvero sostenere una crescita dell'Europa e un rafforzamento della sua unità. Rafforzamento dell'unità e crescita dell'Europa sono i due argomenti e i due binari su cui noi naturalmente dobbiamo insistere di più. C'è un tema oggi che ci riguarda, che riguarderà tutti i cittadini, che è quello del bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Inizierà una negoziazione molto serrata, dura anche con i governi. Noi vogliamo come Parlamento un bilancio che ci aiuti a crescere, un bilancio ambizioso. Vogliamo che l'Europa diventi leader nella lotta ai cambiamenti climatici. Vogliamo sostenere i nostri giovani, vogliamo sostenere i programmi di maggior successo. Abbiamo bisogno di investimenti sulla digitalizzazione, ma per fare tutto questo servono risorse. Allora un appello ai governi. Non scommettete sul fallimento della Commissione che sta per nascere. Abbiamo bisogno di sostenerla e di fare in modo che abbia successo. Questo sarà il successo di tutti, soprattutto dei nostri paesi che hanno bisogno di riconoscersi in una Unione Europea che soltanto se resa più forte potrà essere un'assicurazione sulla nostra vita. Crisi dell'ILVA e di altre importanti aziende italiane ritiene che la normativa europea, ad esempio, sugli aiuti di Stato andrebbe rivisto. Cosa può fare l'Europa per proteggere la propria industria? Raccogliamo con soddisfazione alcuni segnali positivi sulla trattativa che riguarda l'ILVA. Ma l'ILVA è anche lo specchio di una politica europea sull'industria che deve essere ripensata. Abbiamo bisogno, naturalmente, sull'acciaio di difendere queste produzioni, di fare in modo che ci siano investimenti per riconvertire anche queste aziende. Però è il tema della ripresa industriale dell'Europa. E qui, naturalmente, anche tante regole devono essere riviste. Le regole della concorrenza, del mercato unico, ad esempio dei monopoli. Se è vero che il mondo dell'acciaio ha bisogno anche di forza, di forza finanziaria, probabilmente tante regole che costringono ad essere piccoli, devono essere riviste e riformulate. Crediamo che dalla questione dell'ILVA possa rinascere uno sguardo diverso a un'Europa che cerca, sì, la sua sostenibilità, ma che non può rinunciare alla sua ricchezza. Cosa può fare l'Unione Europea per aiutare i lavoratori dell'ILVA qualora i forni venissero veramente spenti? Ma ci sono dei fondi che riguardano, ad esempio, la lotta alle crisi prodotte dalla globalizzazione. Ma adesso noi siamo sicuri che nell'azione del governo italiano la soluzione sarà la ripresa dell'azienda.